Il 29 maggio sarà di nuovo Festacos, un momento importante che festeggia il 25esimo anniversario di questa importante iniziativa che Gestione Acqua ha sempre seguito con grande attenzione. L'iniziativa partì 25 anni fa sulla spinta di Federgasacqua che era la società a cui partecipavano tutte le aziende. All'inizio fu peculiare l'aspetto tecnico di conoscenza degli impianti, pian piano la cosa si è evoluta e ad oggi abbiamo messo in cantiere le tre grandi problematiche. Quindi acqua, energia d'ambiente su cui l'azienda sta al gruppo, sta lavorando su tutti e tre gli aspetti in modo proficuo da tempo e quindi questo vuole essere un po' un momento di condivisione con i cittadini, con gli utenti. Siamo arrivati alla 25esima edizione di Festacos, nozze d'argento e al 50esimo anniversario della nascita di Acos, numeri importanti. Fanno pensare intanto alla grande storia che abbiamo alle spalle. 50 anni di storia significa 50 anni di presenza sul territorio, 50 anni di successi come gruppo, a partire dalla municipalizzata, dal 72, fino ad arrivare oggi a un gruppo che è importante nei numeri e nei servizi che offre. 25, il numero che lei ha citato, sono il numero di anni nei quali abbiamo fatto la festa, prima la festa dell'acqua, oggi Festacos, che è una manifestazione importante per il territorio e che ricorda ai territori e quindi ai cittadini quanto anche il gruppo Acos si avvicina a loro.